Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata di Non c'è due senza trend Vi siamo mancati? Assolutamente, sì Assolutamente, ovviamente Ovviamente, sì Oggi abbiamo belle notizie Parliamo di un meteorite che atterra in Europa Non diciamo in quale paese perché lo dovete scoprire dopo Questa era Vegeta e in realtà non era meteorite Poi abbiamo un portale tra due mondi E poi? E poi lo so Un portale E dopo ci arriviamo Il resto lo scoprirete dopo e ditemi qua sotto nei commenti Già adesso se vi piace il mio bracciale di Balenciaga No, non ci scrivete questo Più che altro se non l'avete ancora fatto lasciate like Iscrivetevi al canale se è la prima volta che arrivate qui su Twatch E seguiteci sui social perché gli mettiamo delle clip estratti Curiosità e tutto quanto Andiamo alle notizie Siete e sei una persona pigra? Beh, un'azienda coreana Ha una soluzione per voi Più che per voi, per i turisti Ha installato un lanciamonete davanti alla fontana di Trevi Perché vuoi un'azienda coreana? Lo sono chiesto anch'io, non so per quale motivo Però questa azienda coreana ha messo questo totem rettangolare così Davanti alla fontana di Trevi Sul quale tu puoi letteralmente appoggiare la tua carta di credito Si prende i soldi e ti spara penso a un euro Però posso dire, è un'iniziativa più pigre che ho visto sull'urbano da tempo Ma è bellissima Ma che bellissima Ma lei ha lanciato la moneta A parte che sta cosa No perché è di buon augurio, è buon auspicio per la tua carta di credito Io forse ho visto un filmato Però dal filmato sembra che questa sparamonete sia un po' lontana Eh sì Ci sarà sicuramente il giorno in cui questa cosa inizia a incriccarsi La gittata non è più la stessa Inizia a cogliere la gente qua dietro la nuca con queste monetine Lavorare solo se sei felice Questa è l'idea di un magnate cinese Dell'azienda Dong Lai Pang Dong Lai Bello però, bel nome Sì, molto Pang Dong Lai Sì, è ritmico, molto ritmico, ci piace Ha deciso che stando a delle statistiche ormai vecchie Che però sono tutt'oggi abbastanza attuali Statistiche basate su sondaggi del 2021 Il 65% dei lavoratori nel commercio al dettaglio in Cina Sono infelici Sono scontenti e insoddisfatti Dovuto sicuramente anche a dei salari A dei ritmi di vita strani A livello anche emotivo C'è poca poca socialità sul posto di lavoro Insomma Non sono tipo super sfruttati Come i barri di Instagram che fanno le malette di Zara Sì, sì, sì C'è un contesto abbastanza particolare del lavoro in Cina E dal punto di vista sociale E quindi lui ha deciso di introdurre il congedo per infelicità Dalle attività lavorative Ma non lavora più nessuno No, però è un congedo massimo C'è nel senso Lui ha dato la possibilità di prendersi 10 giorni aggiuntivi A massimo Che poi in realtà loro prendono 40 giorni di ferie all'anno Cioè non guadagnano tanto Cioè un mese qualcosa Eh, non guadagnano tanto Ma prendono molte più ferie comunque L'8 maggio La tecnologia ha unito due mondi Due mondi Due mondi Quello dell'Europa e quello dell'America Precisamente Dublino in Irlanda E New York a New York negli Stati Uniti New York a New York Sì, perché New York è sia uno Stato che una città Ma che dici? Sto scherzando? No Ah, è una bella pillola La città di New York Ogni tanto ce l'hai qualche pillola di cultura? Faccio quando voglio Comunque stavo dicendo che L'8 maggio sono stati installati questi due portali Nelle due città Per collegare appunto l'Europa e gli Stati Uniti Per tenere persone in contatto con la tecnologia Nonostante i tantissimi chilometri e oceani di distanza La cosa simpatica è che questo portale Sarebbe dovuto servire a concerti Forme di intrattenimento pari E quindi magari chiudere con una bella recensione Mettere un comico di Dublino e un comico di New York Che chiacchiano Hanno avuto la brillante idea di non fare questa cosa Cioè all'inizio era stata pensata per questo Poi è stata aperta al pubblico Per far interagire persone di Dublino e di New York E cosa hanno pensato di fare le persone? Mostrare Da Dublino a New York Foto dell'11 settembre Mostrare le tette Mostrare il culo Foto dell'11 settembre Sì Prese proprio il telefono Dove è il telefono? E hanno fatto nel portale in camera Guardate Foto dell'11 settembre Ma se c'è una foto o qualcosa La regia la metterà a copertura Madonna C'è proprio il primo piano Ripreso così La ragazza che va là Fa le tette Gente che si manda a fanculo Gente che si offende Quindi il portale è stato chiuso Tipo dopo tre giorni Se non sbaglio Questa è la prova Che noi esseri umani Siamo peggio delle sciglie Abbiamo abbastanza libertà Ma non abbastanza Cioè troppa libertà forse In Portogallo C'è stato un evento incredibile È stato avvistato un meteorite Sì Ma così The bot Cioè immagina tu stai facendo C'è proprio questo video Di questa qui che stava facendo Un selfie a caso E si vede questo fascio blu Che passa attraverso le nuvole Non mi guardare così felice Ti distruggo È un fascio di luce Che attraversa il cielo Che ha distrutto il cielo in due L'ha spezzato in due E questo meteorite È effettivamente poi atterrato In un distretto portoghese Di distretto di polizia Perché distretto di polizia? Una sitcom italiana Vecca Sì ma che cosa c'entra? Gli attivisti di ultima generazione Ragazzi Hanno rotto il cazzo Un'altra volta Di ultima generazione Sì Tipo gli iPhone Perché? Perché sono quelli più recenti Capito? Quelli più giovani Quelli sì L'avanguardia Quelli più stupidi Vabbè comunque Tipo quelli Come Maria Sofia Federico Come cazzo si chiama? Quella che stava al collegio Vabbè Sostanzialmente cosa hanno fatto? Questi coglioni Sono andati in giro Per le strade di Roma A imbrattare i negozi Nei vetrine Dei negozi di fashion Capisco che negli anni 90 I primi anni 2000 C'erano le pellicce Che dicevano Contro Siamo animalisti Non dovete uccidere gli animali E fare le pellicce Ok Ma in questo caso Cioè Gli inquinano Per il fashion Tutti il discorso Fatti in cinema Bambini sfruttati Che lanciano I vestiti Capitabilmente Ok raga però C'è te rotto le palle Una cosa forse un po' unpopular Cioè Il paradosso di questo paese Spicco la parentesi Un po' pesante Ma Cioè Ti hai di conto che vengono Manganellati I ragazzi Che vanno a protestare Che ne hanno anche il diritto Delle scuole E questi qui vengono semplicemente arrestati Dovebbe essere invertito Finché non fanno capire Che questa cosa Ha delle conseguenze Serie Che non sia il semplice Fermo d'arresto Il fermo di 24 ore 48 ore Quelle cose là Un team congiunto Dell'università Di Harvard Ha appena mappato Una microporzione Di cervello Questo team congiunto Dell'università Di Harvard Ha preso questa paziente L'ha sedata L'ha fatta sedere E Ne hanno mappato In 3D Una porzione Minuscola di cervello Se non sbaglio Sono proprio Due millimetri cubi Pensa un po' E questa raga La paziente Soffre di epilessia Comunque penso Comunque pure se una persona piccola Sarà parecchia Cioè una quantità di informazioni Incredibile Eh infatti Vi caccio i numeri Parecchie info Vi caccio i numeri adesso In foto Hanno preso 57.000 neuroni 230 millimetri Di vasi sanguigni E quasi 150 milioni Di sinapsi Di sinapsi Se dovessi spiegare A parole Le sinapsi sono I collegamenti elettrici Che fanno i cervelli Quando si. Sicuro? Si Quindi passano Ecco la sua laurea In microbiologia cerebrale E quindi quando passano le informazioni da punto A, punto B Fanno così proprio Esatto E questa cosa è tipo pazzesca Cioè raga possiamo mappare il cervello Una cosa mai fatta finora Proprio i meandri del nostro cervello Possiamo scoprire come funzionano i ragionamenti Come funzionano i ricordi Il perché tu ti mangi le parole E ora ragazzi i nuovi rimasti Cercavate l'entrata più strana e originale della Goat League? Beh l'ha fatta il Rosso Godetevi questo spettacolo Attenzione! Ed è proprio lui! Il Rosso esce dalla bara Come una lucertola Cambia pelle E benvenuti al Common League Di caos senza furia roca Il Capitano Mamma mia che ingresso Grande Dariong che trolla il Marione In modo veramente originale Eh ma tendono a farlo Il Ligma? Il Ligma sì Cosa vorrebbe dire? Lick my balls! Ah ti hanno fatto l'assist Per fare questo giochino dell'asilo Ho capito, ho capito Ho capito, ho capito, ho capito Google traduttore Un vocabolario Nah Ci pensa Ciccio a tradurci tutto ciò Che non capiamo in inglese Più o meno Vabbè verso le 9.30 Molti anni dopo Delle persone Qualcuno mi spieghi Come sia passato Jerry Scotti Dall'essere uno dei migliori Conduttori televisivi All'essere il cringe In persona Povero Guglielmo Ti capiamo Se sei in pericolo Indossa una maglia blu Mamma mia tanto Sì ma manco io lunedì mattina sto così Cioè tutto è bene Mamma un'emozione Io capisco Vabbè non abbiamo niente contro l'idea crescenza No però tu madre dovessi prima Conoscere i costi di tuo figlio Mamma mia Penso di tua figlia Che sarà la sorellina quella Povero Povero figlio Bentornati nel nostro Angolo Tech Questa settimana abbiamo una notizia Però simpatica Che si attuerà prossimamente Riguardo i nostri Utilizzatori di iPhone I nostri IOS users Tu non lo sei Io per fortuna sì Grazie a Dio no No grazie a Dio io lo sono E da giugno Dal 10 giugno Ragazzi datemi una ringa Che gliela chiavo in faccia Tra l'altro sei vestito da Logo Android Non so se avete fatto caso Siri avrà delle funzionalità Effettivamente simili a quelle di chat GPT Diventando a tutti gli effetti Non più un assistente vocale Ma una IA Agirà esattamente come chat GPT Quindi saranno delle funzionalità in più Prima agiva da script Quindi ti diceva soltanto Che ore sono Che tempo fa oggi Invece adesso non perde il contesto E soprattutto iPhone Dato che sono ovviamente persone intelligenti Intelligentissime L'hanno introdotto direttamente in locale Quindi sul dispositivo E non dovranno far Dovrai accedervi come chat GPT Tramite web Il che è costo computazionale ridotto Perché non dovranno avere niente online Niente in cloud Ma è tutto sulla macchina E tutela anche la privacy E anche questa settimana Noi vi ringraziamo per la compagnia Se siete arrivati a questo punto del video No Ci salutiamo già Sì purtroppo Ci vediamo settimana prossima Commentate con Vegetapapaya E diteci 15-18 quanto fa Qui sotto nei commenti Ma perché a caso Non sei un uomo di cultura No no Sono un uomo di cultura Ma non ha senso metterlo qua Non c'entra questo meme Comunque commentate E lasciate like Iscrivetevi al canale Se non l'avete già fatto Andate a seguire su altri profili Su Instagram TikTok TikTok non c'è due Senza trend Profilo dedicato Mi raccomando Ci vediamo venerdì prossimo E per oggi è tutto ragazzi Arrivederci E grazie Forza un uomo di sempre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti